Perfetto. Buongiorno, come dicevo prima, grazie a quelli che sono qui con noi in un orario improbabile. Storytelling e storydoing, Expo 2015. Il tema che andiamo a affrontare, secondo me, è di grande interesse e merita attenzione per il semplice fatto che l'Expo stessa è un'operazione di racconto complesso, articolato e con uno scopo preciso, cioè quello di portare alla luce e di rendere evidenti e importanti per tutti noi i problemi del settore agroalimentare, quello che significa, un giorno dovremo mangiare sempre e sarà sempre più difficile, per semplificarla molto. E quindi bisogna raccontare, bisogna raccontare delle cose, i paesi si devono raccontare, devono incontrarsi, devono raccontarsi tra loro e devono raccontarsi le persone. Quindi andiamo verso un evento che durerà, avrà un periodo predeterminato di durata, ma che poi in realtà in qualche modo dovrà continuare, dovrà continuare a esistere nel racconto e nell'interazione, dovrà trasformarsi in piattaforma. Questa è una sfida enorme oggi, perché come si diceva con i panelist quando ci siamo incontrati prima per preparare questo panel, è cambiato completamente il modo di raccontare le cose e quindi questa sarà una, diciamo così, un'expo completamente diversa. Vedremo come, vedremo perché. Allora oggi qui con noi, per cercare di fare il punto su quello che c'è da sapere rispetto all'expo, rispetto al suo racconto, abbiamo tre persone che fanno tre cose diverse e che ci possono raccontare questa storia da tre punti completamente diversi. Innanzitutto c'è Susanna Legrenzi, che ha un ruolo fondamentale, un ruolo chiave, che è responsabile dei social media dell'expo 2015. Deve affrontare una complessità non banale di cui ci faremo raccontare, con la quale ci potremo confrontare durante questo incontro. Poi abbiamo Andrea Costa, che è project manager dell'expo per Telecom Italia, che è uno dei partner principali e che è un abilitatore, cioè quello che costruisce le infrastrutture, vedremo, ma non soltanto, è quello che crea la piattaforma tecnologica per generare le nuove pratiche attraverso cui l'expo stessa esiste, in qualche modo. E poi con noi c'è anche Tremor de Nigo, ho sicuramente detto male il nome, ma non è importante, lo faremo dire meglio a lui, che è Information and Communication Coordinator dell'expo 2015 per l'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea a questa exposta sarà presente, sarà presente in maniera forte, determinata, e ha una sua strategia di comunicazione, degli scopi da raggiungere, e ci aiuterà a capire quali sono e perché è importante che ci sia e come questi scopi verranno tradotti in una strategia di comunicazione, soprattutto sui social, perché è una cosa interessante, ce lo racconterai, cerchiamo di capire veramente che cosa si deve fare. Però per rompere il ghiaccio, per aprire, diciamo, questa discussione, io partirei da Susanna e faccio una domanda che è semplice fare, alla quale sicuramente non è così semplice rispondere, cioè partiamo dall'inizio, che cosa significa gestire i social media per un evento come l'expo 2015? E per rispondere accendi il microfono. Ecco. Ciao Alessio, grazie. Credo che a questa domanda ti potrò rispondere forse alla fine del 2015, nel senso che non c'è campo di sperimentazione più interessante e sfidante dei social. È un campo dove nessuno di noi, penso, possa avere delle certezze, ma su cui si possono sperimentare delle intuizioni. In questo caso l'expo rappresenta una palestra particolarmente complessa, ma anche curiosa, perché ha delle specificità, direi, uniche. Cioè stiamo parlando di un evento che ha tempo, che ha un inizio, una fine, ma su cui ci si può interrogare anche nel campo della comunicazione, su quale sarà la legacy. È un evento che abbraccia una community internazionale con dei numeri che ci fanno spavento, perché si tratta di oltre 7 miliardi di persone, le raggiungeremo tutte, non credo, no? È un evento che va a disintermediare una serie di cose, ad esempio il racconto monobrand fortemente identitario del marchio, in questo caso di Expo, ma piuttosto va a privilegiare la scelta di un dialogo a più voci. Expo sono 230 attori, di cui 147 paesi, poi ci sono i global partner come Telecom, poi ci sono le istituzioni internazionali come l'Unione Europea, quindi abbiamo una complessità di fondo abbastanza evidente, no? In qualche modo. Sono tutte voci, sono tutte voci piuttosto, diciamo così, volitive in qualche modo. Eh sì, no, certo. E poi c'è un grande paradigma, è un paradigma che si gioca poi nei sei mesi, che è quello dell'esperienza, no? Perché non stiamo parlando di una comunicazione di brand, ma di una comunicazione di un grande evento, che è un evento legato alla visita poi, no, del sito espositivo. Però anche qua sappiamo benissimo che nelle stime che sono state fatte, stiamo parlando anche qui di numeri rilevantissimi, di 20 milioni di visitatori attesi, ma saranno sicuramente molti di più quelli che visiteranno Expo nella rete o attraverso i social media. E quindi quando ci è stato chiesto un titolo per questo incontro, anche se la parola storytelling è un po' vecchia, un po' abusata, quello che ci piaceva riportare era questo paradigma, no? Cioè dal telling al doing, cioè sfidarci su quello che si può fare all'interno dei social, quello che si può fare all'interno della rete, quello che si può fare all'interno della digital experience e quello che si farà poi invece sul luogo. E questo è molto... E' qualcosa che non è mai stato fatto prima, perché prima non c'erano questi strumenti o comunque non erano stati visti fino adesso con la necessaria forse attenzione? Beh, sicuramente le Olimpiadi di Londra sono state una case history piuttosto interessante. Tra tutte quelle che abbiamo analizzato prima di iniziare a progettare i social media per Expo, sicuramente quella che per certi versi più si avvicina, certo il tema dell'alimentazione è un tema di una sfida globale, importantissima, culturale ma anche politica, di risorse, si apre a tantissimi temi. Lo sport, lo sport crea community intorno a una palla, intorno a un campo di atletica e quindi per certi versi è anche più semplice. Però lì abbiamo letto, abbiamo studiato anche molto. Senti, se non ricordo male, voi, diciamo lo staff attuale, che è anche abbastanza composito e funziona in una maniera che è anche abbastanza innovativa, poi magari ce lo puoi raccontare, avete raccolto l'eredità di una gestione precedente da non moltissimo, avete dovuto rimpostare il lavoro da capo, avete voluto perché avevate dei progetti se non sbaglio, no? Ma abbiamo voluto, c'è stato un avvicendamento, prima era affidata un'agenzia, poi è stata costruita questa squadra, che è un po' no, ma nel senso che non siamo dei comunicatori d'agenzia, ma siamo dei professionisti della comunicazione, c'è un piccolo gruppo di, chiamiamo, AG, perché noi siamo nativi digitali, lo si vede, su cui poi sono state innestate anche delle figure professionali più giovani. Anche questa è stata una piccola sfida, perché abbiamo deciso di creare delle squadre di tirocinanti, ci tengo a dire retribuiti, che di sei mesi in sei mesi affiancano il nostro lavoro, sono dei visual designer formati in università di grafica e abbiamo fatto questa scelta, che è una scelta che richiede anche un grande impegno in termini di formazione permanente, ma per valorizzare un capitale latente che in Italia è molto forte, sia io che Stefano insegniamo in università e siamo interessati anche a questo tipo di esperienza, che può essere anche di grande dialogo e di grande scambio. Quindi un'ennesimo, diciamo così, ricaduta dell'Expo può essere quella di generare nuove competenze formali. Come modello sì, poi ovviamente in numeri è una piccola esperienza pilota, significativa nel nostro piccolo, dal punto di vista umbilicale direi. Sì, poi magari vedremo se possiamo approfondire questo aspetto dopo. Io invece passerei la parola un attimo a Tremor De Nigo per fare una domanda semplicissima. Perché quest'anno c'è l'Unione Europea? Poi parleremo anche di che cosa farà a punto di vista dei contenuti, ma intanto spiegaci un attimo il contesto. Domanda semplice. Buongiorno a tutti. Allora, soltanto per tornare indietro, io lavoro per la Commissione. Dovete sapere che l'Unione Europea è presente, ma è la Commissione che ha la responsabilità dell'organizzazione, del coordinamento e del padiglione che ci sarà. Noi saremo presenti perché ci sarà un padiglione fisicamente presente sul sito davanti al padiglione Italia. È una situazione assolutamente ottima, di cui siamo veramente molto contenti e gradevoli rispetto all'Italia che ci ha riservato questo posto. E al di là, come diceva Susanna prima, al di là di questi 20 milioni di visitatori che verranno sul sito, cercheremo ovviamente di entrare in contatto con una comunità molto più ampia, al di là di Milano, nel corpo, diciamo, di quello che può essere definito Digital Expo, lo chiamate come volete, ma voglio dire che l'evento sicuramente tocca non soltanto chi va a visitare i padiglioni, ma anche tutti quelli che sono interessati a capire meglio cosa fa, nel nostro caso, la Commissione dell'Unione Europea nel campo dell'alimentazione. Dunque perché ci siamo? La tematica di questo Expo è assolutamente fantastica e cruciale, importantissima. Senz'altro noi ci concentreremo tanto su questo contenuto che è validissimo. Ovviamente, come sapete, ci sono tantissime politiche europee che sono legate all'alimentazione. La nostra ambizione è senz'altro di sottolineare il valore aggiunto dell'Europa in generale, in particolare nel campo dell'alimentazione, dove ci sono tante cose che vengono fatte a livello europeo. Questo sarebbe una risposta molto semplice e veloce alla tua domanda. Insomma, qua si viene da dire che non potevate non esserci, no? Considerando qual è l'argomento, qual è il ruolo della Commissione Europea e verso che problemi stiamo andando, no? Assolutamente. E poi lì vorrei... c'è stato un lancio europeo che è stato fatto all'iniziativa del Governo italiano, in questi tempi era il Primo Ministro che era eletta, al Parlamento europeo alla fine di gennaio e il Presidente Barroso aveva detto durante questo evento una cosa che riassumi in un certo senso il modo in cui capiamo le cose. diceva che l'Expo non è un evento, è un processo e una volta che hai detto quello hai detto tutto, mi sa, che se si tratta soltanto durante sei mesi di concentrarsi su tematiche senza altro importanti e poi viene chiuso il discorso, non ha tanto senso. È un processo nel senso che ci sono delle cose che prima, durante e dopo. che noi vorremmo e speriamo, e mi sa che sia totalmente in linea con tanti partecipanti di Expo Company al primo posto, speriamo che questo evento sia una piattaforma per aprire un dibattito a livello nazionale, europeo, internazionale su queste sfide fantastiche che ci aspettano nel campo dell'alimentazione. Dunque se l'Expo è quello ha veramente un senso e speriamo che sia così. Avendo parlato dell'Expo con più di una persona, con più di un ruolo anche molto diverso mi rendo conto che c'è una grandissima aspettativa nei confronti dell'Expo nell'ascito prima ancora di quello che deve accadere durante. Insomma quello che deve accadere durante forse è quasi per certi versi prevedibile mentre è quello che deve sopravvivere, poi ne parleremo di nuovo anche con Susanna rispetto a quello che si sta facendo nel tentativo di far sopravvivere il più possibile i meccanismi che vengono messi in moto, a quanto pare anche per la comunità europea. Per voi è importantissimo che sia soltanto l'inizio, che sia un ingranaggio che parte rispetto a una conversazione e mi pareva di capire che perché questo avvenga per voi sono strategici i contenuti. Avrete una comunicazione che è vostra e che si articola su più canali compresi social media, è corretto? Assolutamente, ma per un evento comunque di questa misura la comunicazione ci vuole una strategia che sia ben definita e molto ampia. Ovviamente ci saranno i canali tradizionali, però per insistere su di quello che mi sembra che sia il caso questo pomeriggio i social sono per noi un strumento assolutamente essenziale nel quadro della nostra strategia di comunicazione. Questi strumenti cambiano anche chi, come tutti gli strumenti tra l'altro, chi le usa. Usare i social vuol dire cambiare il modo in cui pensi alla comunicazione. Ovviamente devo dire che per le organizzazioni che siano pubbliche o private, grosse organizzazioni, non è così facile. perché non sono abituati per niente a questo tipo di comunicazione. Tendenzialmente un'organizzazione pensa soprattutto ai suoi bisogni, si concentra su di sé, su quello che ritiene utile per il cittadino e poi porta avanti quello che deve dire, fa dei push, delle informazioni. Invece nel social ovviamente si scambia. Si cerca di capire i bisogni di quelli che vengono verso di te per avere uno scambio. Per questo è un atteggiamento e un approccio totalmente diverso e che riteniamo utilissimo e importantissimo e lì per noi, per tornare su quello che dicevi prima, l'Expo è anche un laboratorio in questo senso perché ci dà la possibilità di provare, di sperimentare certe metodologie di comunicazione che saranno anche nuove per la Commissione e che ci sembrano molto importanti. Permettimi, la comunicazione, così come la conosciamo, quella tradizionale, che sia istituzionale o che sia corporate, comunque si è fatta di crismi molto precisi, di processi ben definiti che sono il frutto di anni e anni di lavoro e che quindi hanno determinato anche alcune catene di decisione piuttosto che di funzionamento, di funzioni all'interno di ogni divisione. è un mondo che funziona con le sue gerarchie e per lavorare con social media quel mondo deve cambiare. In un'istituzione grande, articolata e complessa e anche un po' burocratica, consentimi come può essere quella che rappresenti, non deve essere semplice Blackberry, non deve essere semplice trasferire, diciamo così, l'idea di cambiamento che serve poi a modificarla quel tanto che basti per poter comunicare attraverso queste cose, deve essere una bella impresa, insomma. È difficile, è difficile però io ritengo che sia possibile, assolutamente. Il nostro approccio è quello, che noi ci vogliamo concentrare ancora una volta sui visitatori nel padiglione e al di là delle expo su chi viene verso di noi, come dicevo prima. Questo atteggiamento è totalmente diverso. Allora, ne abbiamo parlato prima, le organizzazioni pubbliche fanno molto fatica a capire il social perché nel social si tratta di un incontro tra persone e le organizzazioni ovviamente si vivono come composte di persone, sono istituzioni, sono entità, no? Dunque se mi rivolgo alle poste italiane, sono le poste italiane, non so cosa sono le poste italiane, non so cos'è la Commissione europea, noi quello che vorremmo fare attraverso questa opportunità è di dare dei nomi, delle facce alle persone, in tal modo che il cittadino capisca che sia in relazione diretta con persone. Accennavo un trucchetto prima con Susanna, che è un trucchetto che ho usato nella mia vita precedente, che funziona abbastanza bene. Veramente è un trucchetto, ma funziona bene. Si fa un post su Facebook, dunque c'è una grande organizzazione pubblica che fa un post su Facebook. È una comunicazione tante volte che viene fatta lì, che è esattamente quella che viene fatta sul website tradizionale, trasferita sul social. Quindi praticamente si fa sul social quello che si fa sul website e che si faceva prima sul pezzo di carta. E così non cambiano. E sono di un interesse abbastanza relativo. Quello che si cerca di fare, ancora una volta, è di capire attraverso lo scombio che hai con le persone che vengono a visitare la tua pagina, se c'è un dialogo possibile. Dunque tu fai il post e firmi questo post, metti un nome, perché c'è una persona che l'ha fatto questo post. Così che a questo punto c'è una persona che entra in contatto potenziale ovviamente con una persona. Su Twitter è più facile ovviamente, perché i portaparola, così si dice, no? I portaparola delle commissioni sono 25, hanno tutti un conto Twitter, sono in contatto diretto con chi vuole essere in contatto con loro, e lì c'è una persona ovviamente. Su Facebook è un po' più... Ecco, soltanto era un esempio, ma per dire un po' l'atteggiamento e il metodo... No, ma è affascinante, perché tu lo spieghi con una semplicità notevole, perché è una cosa semplice da spiegare. Cioè, dare un volto a chi lavora all'interno di un'istituzione comporta una sua assunzione di responsabilità e una trasparenza immediata nei confronti di chi ha di fronte. Il problema è che è semplice a dirlo, ma immaginare fatto in un organismo come il tuo, qualsiasi organismo istituzionale è una cosa complessa. Ci torneremo dopo. Anche perché a me piacerebbe approfondire un pochino meglio proprio la strategia e che cosa intendete fare sui vari canali, su quali canali volete essere presenti e che cosa volete raccontare lì. Prima però farei un passaggio con Andrea Costa, che ha questa gatta da pelare, che è quella di essere il project manager per Telecom, partner principale dell'Expo, e quindi è l'abilitatore. Creazione di infrastrutture, significa creare infrastrutture per i processi, ma diciamo prima, mentre discutiamo, creare le infrastrutture anche per le idee. Che cosa significa? Che cosa significa versire questo ruolo adesso e quale sfida rappresenta innanzitutto? Telecom è diventata global sponsor di Expo nel 2011, il primo partner privato di Expo e quindi ha accettato una scommessa in tempi dove era abbastanza difficile poter credere in quest'opportunità. Però non l'ha fatto in maniera casuale, l'ha fatto proprio per un disegno strategico. L'Expo non è una fiera, provo a fare qualche considerazione. Cioè una fiera è qualcosa che dura pochi giorni, magari una settimana, l'Expo dura sei mesi, come minimo, perché l'Expo è già oggi, si sta già vedendo. La fiera è qualcosa per addetti ai lavori, quindi ad invito, a tema. L'Expo è un tema globale per tutti, cioè un tema talmente importante che nessuno si può togliere dal discutere, dal tema dell'Expo. Una fiera è esclusiva per definizione, perché comunque per addetti ai lavori, in un luogo piccolo, non posso dire, comunque ci sono delle... L'Expo deve essere inclusiva, necessariamente, inclusiva nel momento dell'evento, ma anche inclusiva in senso più lato, deve poter far parlare tutte le persone dei temi dell'Expo. Una fiera si può ripetere, ma sostanzialmente dopo che è finita, basta, un anno dopo magari non si ripete più. L'Expo è un inizio, e lascia sempre qualcosa dopo quest'inizio, lascia qualcosa, normalmente al territorio che l'ha ospitata. Questa Expo nasce per lasciare qualcosa che va oltre i confini del territorio in cui è stata ospitata. Quindi questo fa molto... Secondo me è da... Questo dà una idea della complessità che si deve affrontare. Sì, certo. Poi non vi parlo di tecnologie, perché poi per far funzionare chiaramente tutta questa Expo, che è in un chilometro quadrato, figuratevi che Shanghai aveva un terreno di sei volte e mezzo quello dell'Expo. Figuratevi che nei giorni di picco, dove non ci sarà una temperatura particolarmente piacevole, perché stiamo parlando di maggio-ottobre, il sito ospiterà fino a 250.000 persone nello stesso. Figuratevi che, come diceva Susanna, abbiamo un record di affluenza di paesi partecipanti, determinato anche dal modo con cui Expo ha organizzato il tema dei cluster, per esempio, prevede di far partecipare paesi che hanno uno spending molto meno importante dei grandi paesi. Ecco, tutto questo sostanzialmente vuol dire che in quel momento avremo una piattaforma unica per parlare del più grande, più importante tema. Perché è chiaro che, come hanno detto anche i colleghi, questo è l'inizio di un tema che è molto più importante di quanto noi oggi riusciamo a immaginare, perché è legato sostanzialmente non a un pezzo dell'economia, a un pezzo della socialità, ma è legato sostanzialmente alla sostenibilità della nostra vita, del pianeta, quindi non ce n'è sostanzialmente. Ed è la prima volta che... E sarebbe anche pretenzioso pensare che ci siano già delle risposte. E quindi le risposte devono iniziare a essere elaborate a partire dall'Expo e andare oltre. Ora, tutto questo per dire che l'impatto delle tecnologie digitali, sia per la visita del sito dell'Expo, che devono poter permettere a un visitatore di poter vedere tutti i contenuti di tutti i paesi, il più possibile. E siccome non c'è tanto tempo, chiaramente per vedere tutti i paesi in una sola visita, chiaramente il poter anche portarsi qualcosa a casa di digitale dell'Expo diventa estremamente importante. Devono poter fare meno code possibili, avere delle fruizioni il più rapide possibili, veloci possibili. Ecco, dietro a tutto questo c'è un'importanza della tecnologia incredibile. Perché questo è sostanzialmente un po' il senso tecnologico che giustifica la nostra partecipazione nel nostro investimento. Quindi, la domanda e la risposta sono insieme. Cioè, questo Expo è diverso perché siamo diversi noi. Cioè, abbiamo aspettative diverse che nascono a tecnologie diverse e adesso il vostro compito è rispondere a quelle aspettative che sono sia di chi ci lavora dentro sia di chi viene a vederla. Questa è la complessità. Allora, oggi non si può pensare a un'Expo non digitale, primo. Perché comunque ognuno di noi è all'interno di questo mondo. Le aspettative quindi sono estremamente diverse. Consideri che l'ultima Expo importante di Shanghai è un'Expo ancora tradizionale. Il numero di visitatori dell'Expo di Shanghai sostanzialmente è stato portato in senso quasi fisico dal governo cinese a vedere l'Expo. Noi non siamo in queste condizioni e non lo saremo, né vogliamo esserlo. Quindi, questa Expo necessariamente dovrà dare delle risposte diverse a dei problemi che sono necessariamente diversi. Certamente. Susanna, invece, hai parlato di un laboratorio dove state sperimentando mettendo in pratica delle cose. D'altronde questo è un mondo dove qualsiasi campo ti trovi. D'altro modo si va per prova ed errore. Si provano delle cose, funzionano, magari non funzionano altrimenti, ma funzionano lì. Siamo tutti lì che impariamo. Voi avete dei progetti, delle cose che state mettendo in piedi, le cose che state già facendo e che farete durante. Come si articolerà, diciamo così, la vostra strategia di comunicazione? Come ti dicevo prima, è complesso. È complesso perché poi i filoni di racconto sono veramente molteplici. Sono tante storie non lineari da intrecciare. e progettandole ci piace in qualche modo provare a sperimentare tutti i registri possibili. Per cui esistono i cluster ad Expo e sono questi padiglioni tematici che raccolgono i paesi, soprattutto paesi dell'area africana o dell'estremo oriente. Sono nove padiglioni a tema legati o a delle specialità di tipo agroalimentare come il caffè, il cacao, le spezie, oppure a delle aree geografiche che permettono o non permettono determinati tipi di coltivazione. Come raccontare i cluster? Ce lo siamo chiesti, ci siamo letti queste enormi interviste e ricerche fatte da nuove università italiane e alla fine abbiamo deciso di farne un gioco. E quindi diventerà un processo proprio di gamification, domande e risposte, una specie di quizzone internazionale sui nove e singoli argomenti. E poi c'è il problema della lingua, cioè in quante lingue parlare, come organizzare questa... Ricordami, quanti paesi partecipano? 147, per cui impossibile coprirli tutti. C'è il BIE, che è il bureau internazionale che sovraintende l'Expo, che chiede l'uso dell'inglese e del francese. Però come portare questo dato, questo meticciato culturale, che è un valore forte, no? Il mondo è a Milano, il mondo è in Italia durante il semestre. Allora lì abbiamo pensato di poter lavorare in forte sinergia con i paesi e quindi di poter intrecciare non solo i racconti del work in progress dei paesi, ma anche le stesse lingue e quindi arrivare a una, come ti dicevo, una grande babelia linguistica. C'è la mascotte, che ci ha dato molto da pensare, perché quando è stata presentata da Disney i social sono anche una grande arena dove a volte ci sono anche i leoni e ovviamente la mascotte è stata zannata all'inizio. Però anche lì abbiamo fatto una serie di ragionamenti e adesso che è stato costruito anche questo buffissimo costume da 25 kg, che è un monolite, abbiamo detto che ne facciamo? E la mascotte adesso parteciperà al Giro d'Italia, attraverso una delle grandi media partnership che ha siglato Expo con il gruppo RCS per seguire un evento assolutamente popolare, perché Expo ne abbiamo parlato in termini di processo, in termini di legacy e quant'altro, è un evento alto, un evento che permette di inannellare una serie di domande, però anche un evento pop popolare e quindi una festa. Non è semplice, ci sono tanti racconti diversi e stiamo cercando di sperimentarli tutti, intrecciando non solo le storie ma anche i canali e quindi utilizzando ovviamente Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, ma anche i Tumblr che vanno a diventare dei cassetti digitali di questi flussi che altrimenti andrebbero a disperdersi. Abbiamo implementato, lo rilasceremo settimana prossima, un hub che va a creare una stanza dove verranno raccolti tutti i nostri flussi feed dei nostri account, ma anche gli account dei paesi partecipanti, poi probabilmente quelli dei partner, quelli della Commissione Europea, dell'Unione Europea e altro. E quello che faremo è di lavorare in grande regime di trasparenza mettendo in condivisione non solo quello che stiamo facendo ma anche, come dicevi tu, i nostri dubbi e probabilmente anche gli scivoloni che andremo a fare e quindi in questo social media hub ci sarà anche uno spazio dove chiunque potrà scaricare quelli che sono i nostri documenti, documenti di progetto e magari anche qualcosa che abbiamo iniziato con grande entusiasmo che poi scopriremo invece voler abbandonare immediatamente perché non ha dato i risultati che speravamo. In quanti siete adesso a gestire? In quanti sarete se aumenterà il numero durante? Non credo che aumenterà il numero durante, purtroppo. La direzione dei social media è divisa tra me, Stefano Mirti, abbiamo un art director che è Franz Goria, una persona che si occupa specificatamente dei piani di advertising perché per andare sui social media con successo ci vogliono anche quelli, è inutile che non lo raccontiamo, ed Alessandro Minino. Abbiamo una giovane communication specialist che era già in Expo, Manuela Bonfiglio, Giuseppe Rubinetti, Giulia Vai e cinque tirocinanti. Per cui siamo una squadra molto leggera ma soprattutto una squadra che lavora in regime di atarchia nel senso che non abbiamo poi grandi commesse esterne, cioè tutto quello che dobbiamo fare lo implementiamo direttamente dentro, che sia una piattaforma web, che sia un Tumblr dedicato, che sia un video, che sia la grafica e altro. Adesso com'è andata? Nel senso non ci dà me l'idea di toccare argomenti che siano fuori dalla comunicazione, però voglio dire voi siete in prima linea, no? E non deve essere semplice gestire, diciamo così, l'interazione con tutti, anche perché molte risposte le avete, molte non le avete, è impegnativo questo, è come, 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 qual è la vostra strategia nell'interagire anche con chi è critico, no? Per ragioni anche che esono da quello che è lo spazio del contenuto stesso. Adesso ci siamo, come ti dicevo, abbiamo un piano anche di investimento e quello cambierà anche il rapporto con la community, cioè qua ci occupiamo tutti di queste cose, sappiamo anche un po' come funzionano, per cui in questo momento tutto è reso anche un po' più morbido perché stiamo lavorando in crescita organica con dei risultati che però ci danno anche soddisfazione, ma non è che siamo bravi noi, è che l'attenzione intorno a Expo sta crescendo, no? esistono ovviamente delle sacche di dissenso, sono sacche che hanno natura varia, che possono essere legate al traffico impazzito di Milano, alle vie d'acqua, ma non vi racconto cose nuove perché le potete leggere direttamente voi dai social o anche dai quotidiani. Devo dire che grandi criticità finora non abbiamo avute, le avremo di sicuro, forse non le avremo, ma non è tanto questo che ci spaventa. Io vengo dal mondo della carta stampata, ho lavorato per per vent'anni per i giornali di cui quindici come capo redattore a Io Donna che era un magazine di Corriera e anche quello pur essendo uno specializzato, un femminile che banca una bella palestra quando è nato perché i femminili dei grandi quotidiani ci hanno insegnato anche tante cose all'inizio e anche in quello c'erano criticità di ogni tipo, no? Cioè fa parte del mestiere della comunicazione. Certo, poi ormai siamo un po' abituati ad essere in una conversazione poi ci sono anche quelli che ti sfiniscono e allora quelli abbiamo deciso che facciamo un quadernetto e poi dopo il 2015 ci rivediamo magari anche uno spritz socializzare a tutti i livelli. Tormer, quando prima ci siamo confrontati mi hai parlato di tre livelli di comunicazione e di una strategia di comunicazione. Allora, innanzitutto quali sono questi tre livelli che voi identificate e poi andiamo in dettaglio su quali canali pensate di essere, su quali social per fare che cosa praticamente con degli esempi. Ok, sì, siamo con esperti parliamo di cose precise. Innanzitutto il nostro approccio per tornare al primo punto noi abbiamo tre livelli se vogliamo dire per la nostra presenza c'è ovviamente quello che ci sarà a livello del padiglione dunque l'incontro con i visitatori e la comunicazione che verrà fatta sia al padiglione che in linea con il pubblico nel senso veramente più largo possibile. C'è la dimensione business, business to business, business to citizen che è molto importante anche per noi dove ci faranno degli eventi particolari con l'industria rispetto a un settore agroalimentare che è assolutamente importantissimo in Europa e c'è un livello che è senza altro per noi il più importante politico perché dicevo prima che se l'Expo diventa una piattaforma deve assolutamente essere il luogo e il momento in cui portiamo avanti delle soluzioni rispetto alle domande che ci facciamo a livello europeo internazionale e lì lavoriamo in stretta collaborazione ovviamente con l'ONU e l'EFAO e avremo un'agenda di eventi durante tutta l'Expo per coprire tutte le tematiche legate alle alimentazioni quindi c'è questo aspetto che è più per i policy makers esperti ma che per noi è decisamente importantissimo su gli strumenti e la strategia di comunicazione vorrei incominciare per rispondere alla tua domanda che mi hai fatto prima perché è legata a quello e per fare seguito di quello che hai appena detto se vogliamo parlare dei social è vero che richiede le risorse sembra una cosa banale da dire però non è a volte non hai capito questo se c'è chi si dice mettiamo qualcosa sui social andiamo via e torniamo quando abbiamo qualcosa di nuovo da mettere non è così dunque nel momento in cui non ci sono community manager che sono al 100% a fare il lavoro e sono pronti a rispondere alle domande non funzionano io avrò questi community manager e ne abbiamo già a livello delle commissioni c'è una squadra social per tutte le commissioni con strumenti abbastanza potenti perché su google per esempio sono un po' meno di un milione sono quasi 300.000 su facebook 250.000 su twitter dunque lì c'è ovviamente un potenziale importante però non si tratta soltanto di rispondere si tratta anche di poter rispondere dunque lì vorrei sottolineare una dimensione che per me è molto importante non si può pensare alla comunicazione esterna senza prima pensare alla comunicazione interna nelle grosse organizzazioni deve essere così perché se si tratta di edificare di costruire una comunità fuori della tua organizzazione devi prima costruire una comunità nella tua organizzazione avere una rete di persone che sono pronte a interagire con la gente sui social e dare le risposte che sono quelle che sono aspettate ci vogliono non soltanto di esperti in comunicazione ma di esperti anche nei campi che vengono accenati quello che hai appena descritto sono i punti chiave per adeguare un'istituzione tradizionale al tempo reale assolutamente sembra molto semplice ma non è semplice per niente perché bisogna convincere i tuoi colleghi e la tua struttura che le cose devono essere fatte così e questo non è facile per niente sarà la stessa cosa da team perché è la stessa cosa in tutte le grosse organizzazioni sicuramente è un processo in corso ovunque in qualsiasi settore in qualsiasi tipo di azienda assolutamente tu devi essere pronto a quello perché se no c'è una domanda che ti arriva su una pagina facebook un conto twitter e non c'è risposta a questo punto a cosa serve lì mi viene in mente un'espressione inglese che proverò di tradurre la gente non si preoccupa di quello che sapete ma sa quando voi non vi preoccupate di loro e una volta che hai detto questo capisci cosa deve succedere sui social tu devi mostrare ma non è un trucco è proprio una realtà che ti preoccupi di quello che succede perché se no meno andare sui social dunque ecco perché durante l'expo la stessa cosa lì siamo per affrontare tematiche che sono veramente importanti ci saranno dei lunatics dei troll sicuramente che verranno normale questi sono sempre qua però ci saranno tanti cittadini che avranno anche delle domande molto molto legittime su campi che sono anche campi difficili ad affrontare e bisogna essere pronto ad affrontare queste domande e poter rispondere in tutta serenità e in cui aprire il dibattito questo è lo spirito dei social certo e non deve essere banale anche perché una volta che tu hai delle persone che sono in prima linea che gestiscono l'interazione con gli altri attraverso dei canali prestabiliti quelli che hai scelto di presidiare il problema è che poi sono delle interfacce non sono necessariamente quasi mai i detentori reali delle informazioni quindi è come se tu fossi affacciato a una finestra stai rispondendo a uno che ti fa una domanda tu non hai la risposta però c'è uno in casa adesso se si trova in un'altra stanza se quella stanza ha una porta chiusa se dietro c'è un'altra porta cioè quanto tempo ci vuole per andare a recuperare quell'informazione che spazio hai di interazione e questo è difficile tanto più la complessità del modo e non credo che sia facile scardinare una roba del genere anche perché non c'è quel problema di competitività che magari è un'azienda cioè fai questo o muori no una frase veloce soltanto su di quello perché ovviamente i bloccaggi sono tanti c'è un aspetto logistico di cui hai appena parlato che è vero ci vuole il tempo di andare a trovare le persone che si è capace di rispondere ma secondo me questo non è il bloccaggio più importante che c'è il bloccaggio principale il fatto di accettare il fatto che sei pronto a mostrare che a volte non sai che ti puoi sbagliare questo per una grossa organizzazione è difficilissimo ma tra l'altro lì ci sono tanti giornalisti il giornalismo oggi sta cambiando anche per quello il giornalista deve essere pronto anche a poter giustificare quello che ha fatto a dare una risposta nello scambio che hai con il lettore questo è molto nuovo per il giornalismo non tutti i giornalisti magari sono pronti a farlo secondo me quelli che non sono pronti a farlo spariranno questo è un punto di vista personale quelli che lo sanno fare e sono bravi a farlo ci articano anche dai blog che sono un'istensione veramente di quello che succede nei giornali fanno un lavoro veramente fantastico e mostrano tra l'altro una cosa molto importante che abbiamo visione dei giornalisti assolutamente io andrò avanti però mi domandavo se ci sono già delle domande dal pubblico se qualcuno vuole chiedere qualche cosa qualche curiosità in fondo abbiamo tre interlocutori molto diversi tra loro per uno stesso argomento che è assolutamente vitale in genere quando si fa questa domanda la gente rimane in silenzio anche se ne ha di domande per questo ve l'ho detto adesso così avete un po' di tempo per pensarci invece torniamo per quello che mi riguarda torniamo da Andrea Costa abbiamo ancora un po' di tempo per fare due chiacchiere prima abbiamo parlato in maniera un po' più più ampia anche forse più filosofica che forse è quella anche da cui bisogna partire di che cosa significa costruire infrastrutture io però ho un'idea della sfida che state affrontando per abilitare per esempio come diceva un luogo dove ci sono 250.000 persone contemporaneamente ha tutta una serie di servizi di sistemi e di cose un'idea di che cosa significa questo impegno la vorrei vorrei capire cosa state facendo l'altra cosa è a me sembra che ci sono due istanze una verso l'esterno una verso l'interno verso l'esterno e per i visitatori offrire tutta una serie di cose verso l'interno e abilitare tutta una serie di processi nuovi per far sì che le persone lavorino insieme quindi si tratta di gestire anche questo se non lo fai ma noi abbiamo partiamo un po' dalle persone e quindi anche rappresentare la nostra forma di investimento non solo in termini tecnologici ma anche in termini o finanziari che sono comunque i più importanti ma anche in termini di impegno di persone perché noi di fatto stiamo facendo un'operazione dove contiamo di utilizzare proprio noi le nostre persone per far riuscire molto meglio l'Expo ci stiamo inventando un po' di uomini sandwich del terzo millennio quindi utilizziamo le nostre macchine panda con il logo Expo mettiamo il logo Expo nelle vetrofanie usciamo a un anno dall'Expo con il nostro web magazine dedicato all'Expo facendo parlare le persone di Expo con una tiratura che comunque va a 50.000 persone perché crediamo che il successo dell'Expo ma della nostra partecipazione in primis perché poi noi dobbiamo chiaramente valorizzare la nostra partecipazione dipenda moltissimo dal grado di consapevolezza che noi riusciremo a portare ad ampliare il più possibile e quindi questo è secondo me una misura anche di quello che stiamo facendo quello che stiamo facendo è il nostro mestiere seppur in un ambito molto ma molto sfidante perché non è che possiamo metterci due anni a aspettare il primo maggio del 2016 per far partire dell'Expo noi chiaramente siamo ente abilitante anche per altre partnership di Expo quindi sulle nostre infrastrutture non vanno solo i nostri servizi vanno i servizi di altri partner tecnologici quindi non so i pagamenti mobili dell'altro partner dell'Expo andranno sulle nostre infrastrutture tutti i servizi basati sulla connettività andranno sulle nostre infrastrutture la sicurezza quindi il nostro ruolo è a maggior ragione un ruolo impegnativo adesso non perché voglia rendere tecnologica questa conversazione però qualche numero probabilmente ha senso darlo noi stiamo stendendo 220 chilometri di fibra in un chilometro quadrato per darvi un'idea la commessa che abbiamo portato avanti su tutta la Val d'Aosta che non è la regione più grande però pur sempre la Val d'Aosta rispetto a un chilometro quadrato sono 500 chilometri di fibra quindi questo sarà veramente il sito più connesso che ci sia mai stato noi stiamo sostanzialmente performando con delle antenne mobili che chiaramente avranno il rispetto anche dal punto di vista dell'impatto ambientale visivo di quello che è l'idea architetturale dell'Expo stiamo fornendo tecnologie di ultimissima generazione mobile LTE o 4G a 250.000 persone contemporaneamente sullo stesso sito in maniera che poi anche l'interazione video tra di loro possa essere una esperienza nuova e innovativa ma questo perché sappiamo che dobbiamo abilitare tantissimi processi nuovi alcuni li conosciamo già altri non è detto che li conosciamo perché magari non li gestiremo noi l'importante è che comunque tutti questi processi viaggino su infrastrutture e servizi performanti e sicuri quindi questo è un proprio quindi è chiaro questo è il nostro DNA la nostra missione l'ultimo tema è l'Expo avviene in modalità molto complesse perché c'è pochissimo tempo e c'è molta burocrazia questo non è un giudizio è un dato di fatto cioè le cose stanno così è una cosa di cui tenere conto e quindi noi piuttosto che criticare cerchiamo di capire qual è la soluzione come facciamo essere veloci nell'installare nuovi servizi e farli funzionare allora quello che è il cloud computing quello che noi chiamiamo la nuvola italiana quindi la messa a disposizione di capacità elaborativa a Expo ai partner di Expo e a tutto l'ecosistema diventa un po' il fulcro della nostro investimento questo sarà il primo grande evento il più grande evento realizzato totalmente abilitato da tecnologie informatiche in cloud computing nel senso che non si è mai visto quindi cosa vuol dire in sostanza lì non è che posso prendere portare server aprire perché ci saranno problemi di viabilità di traffico di sicurezza quindi o trovo una maniera intelligente per accendere nuovi servizi e utilizzare capacità elaborativa infinita o altrimenti mi devo limitare a una sorta di senza nulla togliere a questo di sagra della salsiccia e non poter far vedere in questa vetrina quella che è la potenza della tecnologia per i nuovi servizi ed è con l'immagine della sagra della salsiccia che mi viene in mente di chiederle una cosa ancora che c'è una ricaduta per voi come azienda nel senso voi state costruendo un modello no? no io vi dico si parla di legacy poi torneremo a parlare della legacy dell'expo in sé però mi domando il modello che state costruendo diventa una case history diventa anche un'esperienza maturata eccetera è esportabile è facilmente esportabile ma noi la stiamo già esportando non è esportabile in senso noi la stiamo già esportando faccio due esempi la complessità tecnologica di una expo di questa expo è unica ok noi realizzando la centrale operativa dell'expo quindi quello da dove passerà tutto il funzionamento di tecnologie dell'expo di fatto stiamo realizzando e ci hanno già chiesto di esportarla la centrale operativa di una smart city perché la smart city è qualcosa che al di là delle tecnologie che ci sono dentro deve funzionare cioè il cittadino si deve porre il problema se una tecnologia funziona deve utilizzarla quindi quale miglior esempio di poter gestire la smart city dell'expo dove ci sono tutte le tecnologie tutta la complessità e questo è il primo esempio il secondo esempio è che Expo che ha una strategia digitale evidente dietro ci siamo noi come abilitatori di questa strategia digitale è già vista da tutto il paese pubblica amministrazione locale e imprese come una grande opportunità e da circa 6-7 mesi tutti i nostri clienti ci stanno chiedendo sì ma io come faccio a creare un legame tra le mie tecnologie e quello che tu stai facendo sull'expo è chiaro che poi chiedo scusa c'è una Expo SPA che può fare tanto però sono limitati hanno una missione ben specifica devono far riuscire bene l'evento e devono far venire bene i visitatori lì è chiaro che un nostro ruolo che vediamo tutta l'Italia di abilitatori di un Expo estesa quindi replicare il digital che c'è su Expo fatto di app di web di social andando su tutto il territorio è qualcosa che noi stiamo già facendo quindi stiamo già replicando noi le chiamiamo Expo estesa questo e devo dire che è come andare a scoprire delle domande fortissime alle quali nessuno aveva saputo dare questo tipo di risposta non siamo la panacea di tutte le esigenze però è una cosa abbastanza concreta di Smarsity parliamo da dieci anni ci sono anche dei grandi operatori planetari che stanno lavorando molto a questo il problema è poi riuscire a integrare i servizi a costo avere anche tra l'altro un luogo di sperimentazione reale uno spazio dove mettere in pratica certe cose e poi integrare tecnologie che tra l'altro si evolvono talmente in fretta che anche stare dietro non è banale e questa è una legacy in qualche modo questa è un'eredità che fa economia fa mercato crea in qualche modo ricchezza però ci sono altre legacy che ci interessano altre eredità di cui tener conto io tornerei un attimo a Susanna perché ricordo che mi aveva raccontato in una delle nostre chiacchiere su questo argomento il fatto che comunque voi avete grandi progetti anche per la sopravvivenza e tutta la stratificazione di conoscenza e competenza e consapevolezza che verrà generata dall'evento in sé nei sei mesi che dura e non è banale immaginare la sopravvivenza online di un patrimonio come questo allora come lo state immaginando in qualche modo questo è un tema che appassiona molto Stefano Stefano Mirti io non sono una grande raccoglietrice io anche vivo con le cartelle della scrivania del computer vuote perché tutto quello che hai trovato volendo poi lo puoi ricercare velocemente comprese i numeri di telefono quando fai il giornalista certo il tema è interessante come vi dicevo prima all'interno del social media o più semplicemente l'aggregatore abbiamo una parte dedicata alla possibilità di condividere tutti i nostri strumenti di comunicazione e questo è già un sistema per far sedimentare gli attrezzi gli strumenti di processo poi l'altra idea è quella appunto di aprire delle mini piattaforme molto veloci a volte anche un po' sporche tanto siamo sul web dove far sedimentare altri contenuti sto pensando a tutta una raccolta di pillole di pensiero sto pensando a una raccolta di numeri sto il game dei cluster quindi piattaforme che sopravviveranno ad Expo e saranno consultabili anche dopo stiamo lavorando sul territorio e quindi una delle nostre mission è quella della valorizzazione ovviamente di Milano ma anche del patrimonio Italia stiamo facendo un progetto con Turing anche lì nascerà una piattaforma che sopravviverà all'esposizione e lo stesso invece per Milano quindi raccontarla attraverso la parola Eccone non mi piace però semplifica quindi 101 storie brevi quindi non una piattaforma di turismo non una piattaforma di ospitalità perché esistono già ed è compito anche di chi si occupa di queste cose di sfruttare la possibilità di Expo come ha detto Wired di hackerarla Expo non può hackerare se stessa ce lo possono fare a chi non ci lavora all'interno e questo credo che sia una delle sfide più interessanti per la community questo è molto interessante nel senso che voi siete aperti a raccogliere i contributi dal basso noi siamo aperti sì anche a sollecitarli però ovviamente non a generarli altrimenti sarebbe un percorso viziato a volte si fa ma non credo sia così interessante però non è banale nel senso che una volta che tu hai un canale aperto e che è bidirezionale è chiaro che per interesse semplicemente per presenza alcune persone sono in grado di portarti del valore perché ce l'hanno lì poi il problema è trasferirlo come al solito nella stanza quella con la porta chiusa tornare in attimo dietro lì come siete messi? le porte sono anche porte dei paesaggi mentali poi a volte non è necessario che si aprano veramente tutte per fare le cose però è interessante pensare a come invece trasportare l'esperienza del digitale o comunque dei social nel mondo reale forse lo sapete il 10 maggio inaugura Milano l'Expo Gate che è il primo padiglione in città vicino al castello Sforzesco ed è un'architettura di Alessandro Scandurra c'è Caroline Corbetta che ne cura il palinsesto e noi da maggio inizieremo a fare una serie di workshop sui social ma non per insegnare cosa sono i social che ci creerebbe anche qualche imbarazzo ma proprio per progettare dei segmenti di comunicazione con chiunque voglia partecipare chiaramente è un'iniziativa locale perché accade in un luogo che è Milano però ci piacerebbe poi dopo poter agire nello stesso modo dando una portata anche internazionale alla cosa quindi aprire invece una stanza virtuale di lavoro con chiunque voglia costruire con noi dei segmenti però come dicevo prima l'accheraggio sta nel coraggio dei singoli e non può ovviamente nascere dall'interno la sopravvivenza della legacy di una cosa come l'Expo dipende dalle piattaforme che si intende pensare per stratificare quella conoscenza ma soprattutto la partecipazione perché piattaforme vuote non servono a niente quindi serve che la gente ci sia questo è il senso quello sì oppure le lascia poste lo possiamo proporre tu dici ma non possiamo fare tutto da soli no non possiamo fare e non ci interessa adesso sinceramente forse neanche tanto cioè non saremo qua in tre non saremo qua con Telecom che non è un partner semplicemente come si dice finanziario economico ma anche questa è una parola molto abusata però noi l'abbiamo messa nei nostri piani di comunicazione che è il termine coprogettazione io mi occupo di design anni fa abbiamo fatto una mostra sul making together quindi cioè progettare insieme e anche quest'anno con Telecom nel piccolo la squadra social si è resa disponibile durante la settimana del mobile a sperimentare la stessa tecnologia che state vedendo qua nel live dal festival e quando ci è stato chiesto vi piacerebbe condividere l'esperienza di Perugia con un'altra istituzione abbiamo pensato alla Commissione Europea perché il loro progetto social lo troviamo molto interessante per noi è fondamentale trovare il modo per intersecare le storie no perché sono 230 attori che animano Expo se non c'è un dialogo interno ovviamente la comunicazione ne esce penalizzata per cui c'è tutto un lavoro molto analogico diciamo di relazioni fatte come una volta in cui si va a bere il caffè e si raccontano si fanno progetti sì io sto per fare l'ultima domanda quindi è la vostra l'ultima occasione di farne una se ne avete insistendo faccio la valletta posso? Prego Visto di sapere in parte ho già risposto De Nigo stiamo acciolando un po' quelle che sono le basi di un processo di social CRM facendo un pensiero più in là se avete pronto un piano di immagino di sì ovviamente una domanda magari scontata di crisis management cioè più che altro come l'avete pensato cioè quali pensate che possono essere le criticità maggiori in un evento di questa portata e un'altra piccola domanda cioè come pensate che si possa intrecciare l'identità digitale di Expo con quella di attivatori se così vogliamo chiamarli magari di una massa critica che possa fungere un po' da influencer diciamo così e portare a un secondo stadio del processo di comunicazione quello che è Expo e di che basta insistere ma poi soddisfazione me la date questa è una gran bella domanda ci sei tu grazie mille allora io andrei riassumere in questi due punti sostanzialmente crisis management se è previsto se c'è poi magari posso raccontare una cosa che è divertente rispetto a questo e poi se c'è l'idea questo potrebbe interessare anche Susanna l'idea di individuare degli influencer cioè dei punti di presenza degli hub più ampi e coinvolgerli per poi portare dietro anche tutto il loro portato di incontri parlando di crisis management a me viene in mente l'apertura di un blog nel 2006 un corporate blog di una grande azienda di fashion che faceva delle cose indistruttibili e ricordo che per fare il blog ci è voluto due ore la grafica è stata fatta in un attimo il blog si tira su in un attimo era un wordpress di sette anni fa quindi non ne parliamo ma per aprire blog in sé per sé ci sono voluti otto mesi durante i quali i legali hanno scritto tutte le possibili critiche che venivano fatte e tutte le possibili risposte per gestire il crisis management a monte perché nessuno si fidava di aprire un blog parliamo del corporate però come idea poi tra l'altro ricordo questa azienda fa valigie e la critica più grossa che si sono beccati è che dopo sette anni si era staccata l'etichetta adesso chiama la critica ma comunque sia la comunità europea ci ha pensato a queste cose molto precise e molto mirate la comunità europea sa fare queste cose di risk management che tante volte sono molto burocratiche tra l'altro abbiamo una squadra che si occupa di quello io non me ne occupo non ti posso rispondere direttamente però c'è ovviamente tutto un approccio così di risk management che viene fatto attualmente sicuramente per la seconda domanda mi spiace ma io non ho capito allora se non ho capito male se c'è una strategia di coinvolgimento degli influencer grossomodo cioè ci sono sicuramente delle persone che online hanno seguito maggiore magari se certi argomenti sono più influenti appunto e quindi hanno un maggior peso se questa strategia si rivolge più o meno a tutti considerando tutti uguali oppure se sono stati identificati degli influencer e questi verranno coinvolti magari con delle azioni maggiori anche offline sì sì no ottima domanda quella ottima domanda perché non l'ho fatta io ma grazie no 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 io ti devo dire di no purtroppo per adesso non ci abbiamo pensato all'interno 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 proprio dei esperti nostri sì sicuramente ma al di là di quello no ottima osservazione hai pensato a qualcosa in particolare io prendo tutte le idee no secondo me interessante cioè nel senso la mia domanda non era una provocazione ovviamente cioè non tanto in termini di visibilità ma come punti di contatto specifici cioè ci sono tantissimi non so food blogger o persone che comunque scrivono non soltanto di cibo ma di una cultura alimentare quindi anche di corretta alimentazione benessere wellness cioè tutta una serie di cose che comunque rientrano se non direttamente o magari anche sì direttamente nell'universo di Expo lo dico perché poi principalmente magari ci sono persone che vedono l'Expo come un'identità stratta molto lontana quindi non riescono a percepire il vero valore di una portata di questo evento di un evento di questo genere sai che potresti fare il tuo analista Susanna per questo ha una risposta eventualmente rispondo la complessità ne abbiamo anche avute anche negli ultimi mesi anche della politica c'è stata ne parlo perché l'avete letto anche di questo tutti la famosa visita di massa del Movimento 5 Stelle che abbiamo seguito e altro se ne sta discutendo internamente a Expo è un mondo complesso c'è un responsabile delle relazioni e affari istituzionali per Roberto Orditti c'è Rossella Citterio si arriverà sicuramente a definire un team delle procedure che assicurino in particolare durante il semestre una copertura di quel tipo per quanto riguarda l'influencer è stato un tema abbastanza importante nel senso che ci siamo chiesti se valeva la pena cercarle nel mondo interno in prima battuta o guardare subito fuori in genere si guarda sempre fuori perché lo fai anche per rafforzare la reputazione per dare maggiore visibilità noi avevamo la fortuna di lavorare invece con una tale quantità di stakeholder interni che se solo riuscissimo a mettere le regime copriremo veramente il globo e forse qualcosa di più perché l'espertisi in campo tecnologico in campo alimentare non so c'è Slow Food c'è Italy c'è il professor Bocchi che ne sa più di tutti di biodiversità veramente c'è una tale quantità di soggetti che ci permetterebbe di avere degli influencer interni per chi sa quanto lasciando sempre aperta la porta a chiunque ha qualcos'altro da dire mancano solo cracco e l'ansia però anche lì cambia un po' il paradigma nel mettere a regime e di abbassare il tono di voce del chiamiamolo brand anche Andrea Costa vorrebbe aggiungere qualcosa non è il mio mestiere però due battute veloci la prima è che la convention più importante di Telecom Italia dove ci sono i nostri veri ambasciatori la rete di vendita sostanzialmente i negozi della team i dealer avverrà il 5-6 maggio quindi domani praticamente a Milano con il sottotitolo Expo e l'opportunità per l'Italia quindi questo secondo me potrebbe essere un segno del fatto che probabilmente noi siamo già in gestione della crisi in senso positivo quindi stiamo utilizzando tutte le strategie A, B e C per creare ambasciatori sostanzialmente quindi alimentare chiaramente con il nostro contributo la conoscenza dei temi dell'Expo la seconda battuta brevissima che seppur in maniera low profile direi è partita in linea la nuova piattaforma della Digital Expo che voi potete tranquillamente andare a visitare expo2015.org che ha proprio questo obiettivo sostanzialmente di creare una discontinuità grandissima positiva di quello che è stato il racconto di Expo prima di oggi e di quello che sarà da oggi fino all'evento grazie tremer soltanto per rispondere perché noi come istituzione ovviamente quelli che contano per noi prima di tutto sono gli esperti con i quali lavoriamo quotidianamente anche i nostri ovviamente per esempio il centro di ricerca comune è licenziato di livello top mondiale e saranno totalmente coinvolti in questo programma ma mi rendo conto che ho dimenticato di dire una cosa perché mi sono concentrato più di più sul come che è il cosa noi mettiamo anche su piedi abbiamo messo su piedi un comitato di pilotaggio scientifico composto da 12 esperti top nel campo dell'alimentazione presidato da Franz Fischler l'ex commissario dell'agricoltura austriaco e questo comitato di pilotaggio avrà come compito di definire le domande diciamo da fare da portare come contributo al dibattito che si deve aprire nel corso dell'expo sarà presentato alla fine dell'anno alla fine del semestre italiano a dicembre a Milano e questo per noi è una parte che conta tantissimo perché vogliamo assolutamente accentuare l'importanza delle scienze e lì è veramente il contenuto che vogliamo portare avanti di questo qua sia a livello dei policy makers e questo sicuramente questo comitato di pilotaggio avrà a che fare con le altre organizzazioni internazionali anche i paesi nel dibattito che si aprirà ma anche a livello del pubblico e sui social è quello che vogliamo fare di due personaggi animati che saranno gli ambasciatori quelli che vi chiederanno di venire a visitare il paese di Lione e sarà in termini di comunicazione questi personaggi che spiegheranno cosa fa l'Europa anche quelli possono dopo l'expo continuare a vivere a far sì che ci sia un processo come dicevo prima che non si fermi soltanto alla fine dell'expo signori sono diversi anni che faccio panel e ho imparato una cosa quando hai tre persone fino a un'ora è conversazione oltre a canimento se non avete altre domande io mi fermerei qui anche se abbiamo ancora un po' di sala e ringrazierei i nostri ospiti se voi siete d'accordo non vedo domande non vedo mani che si alzano la uno la due la tre perfetto ringrazio Susanna Legrenzi Andrea Cossa e Tremor De Nigo grazie a voi grazie a voi perché abbiamo deciso di creare delle squadre di tirocinanti ci tengo a dire retribuiti che di sei mesi in sei mesi affiancano il nostro lavoro sono dei visual designer formati in università di grafica e abbiamo fatto questa scelta che è una scelta che richiede anche un grande impegno in termini di formazione permanente ma per valorizzare un capitale latente che in Italia è molto forte sia io che Stefano insegniamo in università e siamo interessati anche a questo tipo di esperienza che può essere anche di grande dialogo e di grande scambio quindi unesimo diciamo così ricaduta dell'Expo può essere quella di generare nuove competenze e formare come modello sì poi ovviamente in numeri è una piccola esperienza pilota significativa nel nostro piccolo da un punto di vista umbilicale direi poi magari vedremo se possiamo approfondire questo aspetto dopo io invece passerei la parola un attimo a Tremor De Nigo per fare una domanda semplicissima perché quest'anno c'è l'Unione Europea poi parleremo anche di che cosa farà a punto di vista dei contenuti ma intanto spiegaci un attimo il contesto domanda semplice buongiorno a tutti allora soltanto per tornare indietro io lavoro per la Commissione dovete sapere che l'Unione Europea è presente ma è la Commissione che ha la responsabilità dell'organizzazione del coordinamento e del padiglione che ci sarà noi saremo presenti perché ci sarà un padiglione fisicamente presente sul sito davanti il padiglione Italia è una situazione assolutamente ottima di cui siamo veramente molto contenti e gradevoli rispetto all'Italia che ci l'Expo Company ci ha riservato questo posto e al di là come diceva Susanna prima al di là di questi 20 milioni di visitatori che verranno sul sito cercheremo ovviamente di entrare in contatto con una comunità molto più ampia al di là dunque di Milano nel corpo diciamo di quello che poi si è definito Digital Expo lo chiamate come volete ma voglio dire che l'evento sicuramente è toccato chi va a visitare i padiglioni ma anche tutti quelli che sono interessati a capire meglio cosa fa nel nostro caso la Commissione dell'Unione Europea nel campo dell'alimentazione perché ci siamo la tematica di questo Expo è assolutamente fantastica e cruciale importantissima perfetto buongiorno come dicevo prima grazie a quelli che sono qui con noi in un orario improbabile storytelling e story doing Expo 2015 il tema che andiamo a affrontare secondo me è di grande interesse e merita attenzione per il semplice fatto che l'Expo stessa è un'operazione di racconto complesso articolato e con uno scopo preciso cioè quello di portare alla luce e di rendere come posso dire evidenti e importanti per tutti noi i problemi del settore agroalimentare quello che significa un giorno dovremo mangiare sempre sarà sempre più difficile per semplificarla molto e quindi bisogna raccontare bisogna raccontare delle cose i paesi si devono raccontare devono incontrarsi devono raccontarsi tra loro devono raccontarsi le persone quindi andiamo verso un evento che durerà in un periodo avrà un periodo predeterminato di durata ma che poi in realtà in qualche modo dovrà continuare dovrà continuare a esistere nel racconto e nell'interazione dovrà trasformarsi in piattaforma questa è una sfida enorme oggi perché come si diceva con i panelist quando ci siamo incontrati prima per preparare questo panel è cambiato completamente il modo di raccontare le cose e quindi questa sarà un'expo completamente diversa vedremo come vedremo perché allora oggi qui con noi per cercare di fare il punto su quello che c'è da sapere rispetto all'expo rispetto al suo racconto abbiamo tre persone che fanno tre cose diverse e che ci possono raccontare questa storia da tre punti completamente diversi innanzitutto c'è Susanna Legrenzi che ha un ruolo fondamentale un ruolo chiave che è quello di responsabile dei social media dell'expo 2015 deve affrontare una complessità non banale di cui ci faremo raccontare con la quale ci potremo confrontare durante questo incontro poi abbiamo Andrea Costa che è project manager dell'expo per Telecom Italia che è uno dei partner principali e che è un abilitatore cioè quello che costruisce le infrastrutture vedremo ma non soltanto è quello che crea la piattaforma tecnologica per generare le nuove pratiche attraverso cui l'expo stessa esiste in qualche modo e poi con noi c'è anche Tremur de Nigo ho sicuramente detto male il nome ma non è importante lo faremo dire meglio a lui che è Information and Communication Coordinator dell'expo 2015 per l'Unione Europea quindi l'Unione Europea a questa expo sarà presente sarà presente in maniera forte determinata e ha una sua strategia di comunicazione degli scopi da raggiungere e ci aiuterà a capire quali sono e perché è importante che ci sia e come questi scopi verranno tradotti in una strategia di comunicazione soprattutto sui social perché è una cosa interessante ce lo racconterai cerchiamo di capire veramente che cosa si deve fare però per rompere il ghiaccio per aprire diciamo questa discussione io partirei da Susanna e faccio una domanda che è semplice fare sicuramente non è così semplice rispondere cioè partiamo dall'inizio che cosa significa gestire i social media per un evento come l'Expo 2015 e per rispondere accendi il microfono ecco ciao Alessio grazie credo che a questa domanda ti potrò rispondere forse alla fine del 2015 nel senso che non c'è campo di sperimentazione più interessante e sfidante dei social è un campo dove nessuno di noi penso possa avere delle certezze ma su cui si possono sperimentare delle intuizioni in questo caso l'Expo rappresenta una palestra particolarmente complessa ma anche curiosa perché ha delle specificità direi uniche cioè stiamo parlando di un evento che ha tempo che ha un inizio ha una fine ma su cui ci si può interrogare anche nel campo della comunicazione su quale sarà la legacy è un evento che abbraccia una community internazionale con dei numeri che ci fanno spavento perché si tratta di oltre 7 miliardi di persone le raggiungeremo tutte non credo è un evento che va a disintermediare una serie di cose ad esempio il racconto monobrand fortemente identitario del marchio in questo caso di Expo ma piuttosto va a privilegiare la scelta di un dialogo a più voci Expo sono 230 attori di cui 147 paesi poi ci sono i global partner come Telecom poi ci sono le istituzioni internazionali come l'Unione Europea quindi abbiamo una complessità di fondo abbastanza evidente in qualche modo sono tutte voci e sono tutte voci piuttosto diciamo così volitive in qualche modo eh sì no certo e poi c'è un grande paradigma è un paradigma che si gioca poi nei sei mesi che è quello dell'esperienza perché non stiamo parlando di una comunicazione di brand ma di una comunicazione di un grande evento che è un evento legato alla visita poi no del sito espositivo però anche qua sappiamo benissimo che nelle stime che sono state fatte stiamo parlando anche qui di numeri rilevantissimi di 20 milioni di visitatori attesi ma saranno sicuramente molti di più quelli che visiteranno Expo nella rete o attraverso i social media e quindi quando ci è stato chiesto un titolo per questo incontro anche se la parola storytelling è un po' vecchia un po' abusata quello che ci piaceva riportare era questo paradigma dal telling al doing cioè sfidarci su quello che si può fare all'interno dei social quello che si può fare all'interno della rete quello che si può fare all'interno della digital experience e quello che si farà poi invece sul luogo e questo è qualcosa che non è mai stato fatto prima perché prima non c'erano questi strumenti o comunque non erano stati visti fino adesso con la necessaria forse attenzione ma sicuramente le Olimpiadi di Londra sono state una case history piuttosto interessante tra tutte quelle che abbiamo analizzato prima di iniziare a progettare i social media per Expo sicuramente quella che per certi versi più si avvicina certo il tema dell'alimentazione è un tema una sfida globale importantissima culturale ma anche politica di risorse si apre a tantissimi temi lo sport lo sport crea community intorno a una palla intorno a un campo di atletica e quindi per certi versi anche più semplice però lì abbiamo letto abbiamo studiato anche molto senti se non ricordo male voi diciamo lo staff attuale che è anche abbastanza composito e funziona in una maniera che è anche abbastanza innovativa poi magari ce lo puoi raccontare avete raccolto l'eredità di una gestione precedente da non moltissimo avete dovuto rimpostare il lavoro da capo avete voluto perché avete dei progetti se non sbaglio abbiamo voluto c'è stato un avvicendamento prima era affidata un'agenzia poi è stata costruita questa squadra che è un po' no nel senso che non siamo dei comunicatori d'agenzia ma siamo dei professionisti della comunicazione c'è un piccolo gruppo di chiamiamo AG perché noi siamo nativi digitali lo si vede su cui poi sono state innestate anche delle figure professionali più giovani anche questa è stata una piccola sfida senza altro noi ci concentreremo tanto su questo contenuto che è validissimo ovviamente come sapete ci sono tantissime politiche europee che sono legate all'alimentazione la nostra ambizione è senza altro di sottolineare il valore aggiunto dell'Europa in generale in particolare nel campo dell'alimentazione dove ci sono tante cose che vengono fatti a livello europeo e questo sarebbe una risposta molto semplice e veloce alla tua domanda insomma quasi viene da dire non potevate non esserci considerando qual è l'argomento qual è il ruolo della comunità europea e verso che problemi stiamo andando assolutamente e poi lì vorrei c'è stato un lancio europeo che è stato fatto all'iniziativa del governo italiano in questi tempi era il primo ministro e era eletta al Parlamento europeo alla fine di gennaio e il presidente Baroso aveva detto durante questo questo evento una cosa che riassumi in un certo senso il modo in cui capiamo le cose diceva che l'expo non è un evento è un processo e una volta che hai detto quello hai detto tutto mi sa che se si tratta soltanto durante sei mesi di concentrarsi su tematiche senza altro importanti e poi viene chiuso il discorso non ha tanto senso un processo nel senso che ci sono delle cose che prima durante e dopo noi vorremmo e speriamo e mi sa che sia totalmente in linea con tanti partecipanti di Expo Company al primo posto speriamo che questo evento sia una piattaforma per aprire un dibattito a livello nazionale europeo internazionale su queste sfide fantastiche che ci aspettano nel campo dell'alimentazione dunque se l'Expo è quello ha veramente un senso e speriamo che sia così avendo parlato dell'Expo con più di una persona con più di un ruolo anche molto diverso mi rendo conto che c'è una grandissima aspettativa nei confronti dell'Expo nell'ascito prima ancora di quello che deve accadere durante insomma quello che deve accadere durante forse è quasi per certi versi prevedibile mentre è quello che deve sopravvivere poi ne parleremo di nuovo anche con Susanna rispetto a quello che si sta facendo nel tentativo di far sopravvivere il più possibile i meccanismi che vengono messi in moto a quanto pare anche per la comunità europea per voi è importantissimo che sia soltanto l'inizio che sia grazie a tutti